In questo video vi parlo delle falde acquifere. Utilizzo come base il wikibooks scienze della terra per le superiori. Una falda acquifera è una massa d'acqua, una raccolta d'acqua che si trova nel sottosuolo. Ci sono due tipi di falde acquifere, le falde freatiche e le falde artesiane. Per capire come si forma una falda osserviamo questo schema. Con le fasce chiaroscure si mostrano diversi strati rocciosi. Il primo strato potrebbe corrispondere a uno strato permeabile di arenarie, di sabbie, di ghiaie. Gli strati grigi invece corrisponderebbero a strati impermeabili, per esempio strati di argilla, di argilliti, di marne o di altre rocci impermeabili. Vediamo che la falda può essere abbastanza superficiale, nel senso che l'acqua qui se piove va direttamente nella falda. Se invece guardo la falda questa qui sottostante, vedo che è imprigionata tra due strati impermeabili, per cui questa falda può essere ricaricata solo in alcuni punti, per esempio qui a sinistra, dove l'acqua riesce a penetrare e questa è la cosiddetta falda artesiana. Infatti se si scava un pozzo, in questa falda più profonda, per il principio dei vasi comunicanti l'acqua tende a salire spontaneamente fino al livello piezometrico, che è il livello della falda a monte. Invece la falda freatica, se viene scavata, ha bisogno di pompe o di energia per tirar fuori l'acqua, perché spontaneamente non esce. Proviamo a guardare qualche altro disegno, magari che riguarda anche la pianura veneta. Allora, questo è uno schema, un po' dei sedimenti nella zona di Treviso. Questo disegno è tratto da una pubblicazione trovata su Archeo Veneto, la quale ha preso le immagini da un testo di Bonetto Venturini Zaghetto, Veneto, archeologia delle regioni d'Italia. Allora, in questa sezione si mostra che nell'alta pianura trevigiana, qui in mezzo siamo all'altezza di Treviso, vedete che man mano che andiamo verso la bassa pianura trevigiana, aumentano gli strati di limi argille, questi colorati in giallo, dorato. Invece nell'alta pianura prevalgono le ghiaie, per cui qui nell'alta pianura abbiamo soprattutto una falda freatica e sarà anche abbastanza relativamente profonda. Man mano che scendiamo, la falda sarà sempre superficiale, però possiamo trovare anche falde artesiane, cioè falde imprigionate tra due strati di limi e di argille. Quindi, per esempio, qui a livello del sile la falda freatica è abbastanza superficiale e fuoriesce e in profondità però possiamo avere falde artesiane. Andiamo a vedere un altro disegno. Questo è tratto da ispraambiente.gov.it. Questo disegno mostra diversi strati rocciosi. Inizialmente sopra ci sono strati di sabbia e ghiaie, poi più sotto questo sarebbe uno strato di argilla impermeabile, poi c'è uno strato di arenaria permeabile e sotto ancora uno strato di marna impermeabile. Quindi lo schema è più o meno quello che abbiamo visto prima, quindi in superficie abbiamo degli strati rocciosi permeabili, per esempio sabbia e ghiaie, qui l'acqua vi arriva direttamente dalle precipitazioni e l'acqua penetra in profondità fino a che non trova uno strato di argilla o uno strato di roccia impermeabile e quindi comincia ad accumularsi e quindi si forma la falda freatica. Se scavo un pozzo, come in questo caso, questo disegno qui a destra, l'acqua salirà nel pozzo fino al livello della falda ma non uscirà spontaneamente perché l'acqua non ha in pressione per cui si parla di pozzo freatico. Se invece scavo un pozzo nella falda sottostante, che è una falda artesiana, qui l'acqua si trova in pressione perché fa riferimento al livello piezometrico che sta più a monte, qui a sinistra, perché questa falda viene ricaricata in altre zone dove l'acqua riesce a penetrare, per cui è una specie di tubo in pressione, anche se non ha la forma di un tubo e quindi se scavo un pozzo nella falda artesiana forma un pozzo artesiano dove l'acqua risale spontaneamente fino a fuoriuscire, probabilmente, dipende adesso dal livello della falda artesiana, comunque l'acqua tende a uscire e a formare un pozzo artesiano. Un'altra immagine interessante, questo è un disegno di Dal Pra del 1971, l'ho trovato sul libro Le acque sotterranee della pianura veneta e anche questo mostra un po' la struttura che si trova sotto, così, la struttura generale della pianura veneta, nell'alta pianura abbiamo degli imponenti sedimenti di ghiaia, di sabbia di ghiaia, poi man mano che ci spostiamo verso la bassa pianura questi sedimenti di ghiaia e di sabbia si alternano a sedimenti di limo e argilla. Questo fa sì che si formino, diciamo, nell'alta pianura possiamo più che altro, abbiamo più che altro falde freatiche. Invece nella bassa pianura abbiamo in superficie una falda freatica, ma in profondità abbiamo diverse falde artesiane, per cui se scaviamo un pozzo, però dobbiamo andare in profondità, possiamo avere dei pozzi artesiani nella bassa pianura. Nell'alta pianura questo non è possibile perché non abbiamo depositi di argilla e per cui abbiamo solo pozzi freatici a una certa profondità. In genere nell'alta pianura trevigiana, per esempio, i pozzi si trovano a alcune decine di metri, può essere 40, 50, 60, 100 metri di profondità. Invece nella zona di Castelfranco la falda tende a... la falda è molto superficiale e quindi fuoriesce formando delle sorgenti, per esempio le sorgenti del sile. Ok, andiamo a vedere qualche altra immagine qui sul Wikibooks. Allora, questa mostra un po' la struttura di una falda acquifera. Abbiamo una falda acquifera superficiale che è la falda freatica, che è quella che viene ricaricata dalle precipitazioni piovose, ma può essere anche ricaricata da un corso d'acqua, dai fiumi. Più che altro diciamo che la falda acquifera interscambia acqua con i corsi d'acqua, per cui può essere la falda che va a ricaricare un fiume oppure un fiume che va a ricaricare la falda, dipende un po' dalla stagione. A sinistra abbiamo un pozzo freatico, pumped well, viene definito, cioè un pozzo dove l'acqua deve essere pompata perché non esce a pressione. Sottostante abbiamo altri strati rocciosi che formano delle falde più in profondità. Adesso bisognerebbe capire qua il disegno, cosa intendeva per confining bed, comunque in realtà di falde possiamo averne anche, diciamo, di vari tipi di falde a varie profondità. Se le falde sono confinate da rocce o sedimenti impermeabili, la falda viene definita artesiana. Ecco, questa mostra come si forma una falda freatica, quindi superficiale. In superficie abbiamo le precipitazioni, l'acqua penetra nel terreno, scende pian pianino, scende fino a che non trova una roccia impermeabile o fino a che non trova acqua. Quando c'è la roccia impermeabile, quindi l'acqua inizia ad accumularsi formando la falda freatica. Il livello a cui arriva l'acqua in profondità si chiama superficie freatica e questa superficie freatica varierà nel tempo a seconda delle stagioni, della piovosità, della portata dei fiumi. Dipende adesso se la falda interscambia d'acqua anche con i corsi d'acqua, per cui questa è la falda diciamo freatica, quella più superficiale. Questo è un pozzo freatico, siamo nel Mali e l'acqua qui bisogna tirarla fuori con una pompa o con dei secchi. Questo è uno schema invece che mostra un pozzo artesiano, quindi mostra una roccia sandstone, sarebbe un'arenaria, quindi una roccia molto porosa che può essere ricca d'acqua e qui questa falda è imprigionata tra due strati di roccia impermeabili, più o meno impermeabili, per cui si forma una falda in pressione, una falda artesiana e se viene scavata, scavato un pozzo all'interno di questa falda, l'acqua tende a uscire spontaneamente. Questo è un pozzo artesiano in Afghanistan, vedete che l'acqua esce spontaneamente, sembra quasi un geyser anche se non c'entra niente con il geyser. Ecco, questi sono argilliti, sono rocce impermeabili, anche questa è un'argillite, questa è un'argillite rossa perché è ricca di ossidi di ferro. Le marne, anche se sono rocce abbastanza impermeabili, sono argille miste a calcari. Ecco, quando la falda poi incontra la superficie, in qualche modo si forma una sorgente, in questo caso la superficie è una parete verticale di un rilievo per cui la falda si trovava in mezzo a queste rocce, sembrano rocce calcare e quindi quando la roccia finisce la falda fuoriesce e si forma la sorgente. Questa è un'altra sorgente, siamo nel Texas, quindi anche in questo caso la falda, la falda acquifera, interseche la sorgente e quindi fuoriesce dando inizio a un corso d'acqua. Un altro caso, situazione particolare, è quando le falde acquifere vanno in qualche modo incontro a rocce calde, magari una falda acquifera che si trova in una regione vulcanica e queste rocce calde riscaldano l'acqua formando per esempio sorgenti termali, acque termali. se il calore è particolarmente intenso e l'acqua trova una via di sfogo si possono formare i geyser perché l'acqua riscaldandosi tende a dilatarsi, tenderebbe anche a formare vapore se siamo sopra i 100 gradi per cui se trova una via di fuga tra le rocce l'acqua tende a fuoriuscire e a formare delle fontane di acqua calda e vapore per formare i cosiddetti geyser. I geyser più famosi sono quelli islandesi anche se si trovano anche in altre regioni. questo è lo strokur che è un famoso geyser islandese. c'era anche un filmato eccolo qua, ecco questo è lo strokur, un filmato, un geyser che si trova in islanda, geyser famoso, turistico. grazie